Che bella idea venire qui Già, se la cucina è squisita come l'ambiente ti dico che mi segno subito questo ristorante sull'agenda, lo metto al proprio... Almeno questo bel seduttore con tanto di vassoio mi sta facendo il filo No, è sembrato a tutti mamma A tutti, un tiziano ferro etero e don Giovanni E poi si è bellissima stasera Bellissima, sì, bellissima Ma non so, io mi sento un po' freddo Quando qui è inverno, là che cos'è? Primavera? Non è così lontano Eh, beh, sì, vede che per il postino era piuttosto lontano perché non c'è arrivata nemmeno una lettera E a tuo fratello avrebbe fatto bene venire a sapere in una maniera un po' più naturale Io ti ho scritto due volte, non mi hai mai risposto Ma non mi hai scritto niente di concreto, cosa volevi che rispondessi, eh? Ma io e te non ci siamo mai capite Io e tuo fratello ci capiamo invece, sai? Ma non mi fa rire Ci capiamo se Luca ci aspetta una risposta da me, mi fa una domanda concreta Io ti ho scritto due volte Ancora, vuoi che andiamo a rileggere quello che mi hai scritto? Va bene, dai andiamo Ma insomma non è essere maleducata con me Ma mia estera, l'estetista, i tuoi cugini Ve l'ho già spiegato, sono dei libri Ma non mi basta, ma non mi basta come spiegazione, ma cosa vuoi che ci capisca io che ho fatto vedere quelle foto passando di casa in casa tutti quanti, dai di qualcosa per favore Senti mamma, stai esagerando, eh? Anzi, forse hai ragione, forse me ne voglio proprio andare Va bene, vai, tanto sei un'esperta nell'andarte Via, non è che io ho bisogno di parlare pure di contatto con la realtà, l'orizzonte non c'è più Allora pensi di vedere il cielo, invece no, è mare Io non sono venuta prima a discutere, io ho visto un UFO, tutto il quartiere l'ha visto, c'era Nelly e il suo figlio che è diventato tutto rosso, gli hanno cominciato a sanguinare le gengive Allora Dupui sta bene Stabile Vuoi che chiamiamo qualcuno? Sì, sì, il planetario, voglio vedere se ci sono dei precedenti perché era come luce che si muoveva in blocco Come Nelly prima della terapia